Approfittando della sosta forzata all'Anorese, il Valledori è riuscito a rosicchiare tre punti in classifica alla Capolista. Il distacco tra le due formazioni ora di cinque punti, ma i Verdi e Azzurri contano di rimettere le cose a posto nel recupero in programma domani al Frogheri contro il Furni. I Sassarese hanno faticato il piodo del dovuto contro la Corrasio e Oliena, che ha venduto cara la pelle. I padroni di casa sono passati in vantaggio con Carbini nel primo tempo, poi è uscito a fuori la Corrasi, che ha mancato diverse occasioni per pareggiare. Nel finale ci ha pensato Tenerelli a fissare il punteggio sul 2-0. Al terzo posto è tornata la vittoria la Dorgalese, che ha battuto sul proprio campo con il risultato di 4-2 l'usinese. La squadra di Franco De Solis è andata in gol con Mameli e Tendas autore di una tripleta, mentre per i sassarese ha risposto Ippolito con una doppietta. La Dorgalese braca da vicino il Valledoria, pronta ad approfittare di un suo passo falso. Al quarto posto sale Lardala, che ha interrotto la striscia positiva del Ghilarza di Nino Cucu. La formazione sassarese ha conquistato tre punti d'oro in trasferta grazie al gol di Nino Aldeddu. Portorotondo e Codronianos salgono al quinto posto grazie a due vittorie. La squadra di Franco Fiori è andata a vincere sul difficile campo dell'Irva Maddalena, un 2-0 firmato dall'ex verde-azzurro Grassi, autore di una doppietta. Gli smeraldini invece hanno superato la Bittese al termine di una gara ricca di golle, terminata col punteggio di 6-3. Nella zona centrale della classifica il Lauras ha dominato la sfida con la Basanta, 3-0 il risultato finale grazie ai gol di Soro, De Rio e Andreoli. Nei basse fondi della gradatoria il Posada ha espugnato il campo del Tonara, sulla cui panchina è tornato dall'allenatore Micili. Anche in questo caso tanti gol che hanno fissato il punteggio finale sul 5-3 per gli ospiti.